Il difensore centrale questa sera ha un gol e tre otto gol per il gol. Cosa ne pensa? Uno solo e tra l'altro sfiorato. Non mi sento colpevole. Cosa ne pensa della prestazione di settimane di questa sera? Auguroni! Un vero schifo. Sky non paga la luce e quindi tutti aggrati.